Allora siamo con un altro caro amico, Nicola Chiaromonte, tenuto in Chiaromonte di Acquaviva, raccontaci la storia della tua azienda. La storia della mia azienda nasce nel lontano 1826, è un'azienda che si tramanda da padre in figlio, io sono l'ultima generazione, sono la generazione che ha distrutto la vecchia cantina spaccando tutte le botti e sono la generazione che ha ricostruito una nuova cantina dando una visibilità a questo vino, mettendogli un'etichetta. I tuoi vini? I miei vini a maggior parte sono tutti primitivi, ho circa 8 ettari di vitigni ad alberello pugliese dai 30 agli 80 anni e altri 22-23 ettari di pianti nuovi, cordone speronati, in varie contrade di acquaie delle fonti, tra acquaieggio e del colle. Programmi per il futuro? Programmi per il futuro, far conoscere questi vini il più possibile a tutto il mondo e cercare di valorizzare molto il lavoro dei nostri genitori, dei nostri nonni, che fino a questo momento non aveva mai avuto visibilità per quanto riguarda il mondo del vino. Grazie Nicola, facciamo un brindisi, con cosa stiamo brindando? Stiamo brindando con una riserva 2008, la massima espressione, secondo me, del vitigno primitivo di Joyer Cov. Grazie.